quando vedevamo passare il treno dicevo nonno dove va questo treno e lui questo treno va a parigi e poi va a londra per lui tutti i treni andavano a londra e sapeva in ordine tutte le stazioni no shalom ma con saint jean de morienne me le diceva io me ricordo ancora adesso ma quando poi alla fine questi treni erano troppi e non sapeva più dove farli andare e questo treno doveva va in africa e e e e e e e e